Chi è pescatore completo? Se un pescatore arriva a capire che ciò che offre nel fiume, nel torrente eccetera è gradito al pesce, alla trota o al temolo, è arrivato al suo successo. Simplificare la tua vita è così difficile. Tutti ciò che sta portando a diventare più complesso. E Arturo, ha la vita che ho voglio diventare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.